allora quando esci da una stanza all'altra mi spegni le luci va bene ok grazie no le pago io sai com'è no è che è buio oggi ha capito eh no la pago io la corrente sai com'è tesoro vero dai si va bene al buio su scusa che ecco stai usando per annaffiare le piante è quella del rubinetto signora del rubinetto allora devi usare l'acqua del deumidificatore va bene cosa faccio la buttiamo eh no scusami eh oppure quella del mio pediluvio va bene l'ho fatto ieri l'hai tenuta l'acqua no signora guarda sei un disastro va bene che cosa stai facendo sto cucinando signora con quale roba allora ti ho detto che devi andare dai vicini a chiedere gli ingredienti va bene ah ho capito eh una patata oggi una cipolla domani risparmio sulla spesa perdonami eh 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 no allora vai dai vicini chiedi la roba va bene vado a chiedere una patata ai vicini certo e taglia le bucce più sottili che mi sprechi la patata ma sono sottilissime le bucce non mi metto un po di profumo va signora le volevo riferire soltanto che il mio abito da lavoro è un pochino sporco dovrei cambiarlo da quanto tempo ce l'hai su eh da più di un mese sì un mese solo allora aspettiamo un altro po voglio dire devo spiegare una lavatrice per lavarti il tuo grembiule non ho capito eh ma è molto sporco signora allora se lo vuoi lavare a tue spese vai in lavanderia e te lo lavi da sola va bene ecco non discutiamo più per favore oddio ne ho usato troppo porca miseria ok va bene conosco te Francisca e già da molto tempo non riconosco più quella ragazza allegra e sorridente che eri ma Gret sentimi fai una tisana sì sì però utilizza le bustine che abbiamo tenuto quelle già usate va bene no perché ne esce ancora di liquido non sprechiamo le bustine così va bene vado subito ottimo che cosa stai facendo sto stirando allora devi stirare soltanto la parte visibile va bene la parte dietro per esempio non la stirare tanto è dietro chi la vede perdonami eh no sprechiamo la corrente la ok allora dai va bene sì sei in bagno sì dica senti non starai mica utilizzando la mia carta igienica vero quella bianca 5 no 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 assolutamente no 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 utilizza quella carta riciclata per favore ah sì questa qui riciclata va bene signora certo un foglio solo eh sì perfetto bene no è la mia quella 5 veli io sono delicata e non ho capito Sto raccogliendo la polvere da terra, signora Eh no, non la butterò La terrò per farci un meraviglioso scrub per il viso Sto spazzando, signora Bene, cara, bene Oh, ciao cari, ebbene Avete visto quante cose avete imparato oggi da me? Ecco, se mettete in pratica queste cose risparmierete un sacco di soldi al mese L'avete capito? Ecco, cominciate a fare anche voi così Ah, vi saluta Magretta Saluta Magretta Ciao a tutti